Salve a tutti, sono Tiziana, una mamma di Pietralta di Valle Castellana e vi sto mandando questo appello per chiedere che qualcuno intervenga perché stiamo in forte disagio a causa delle strade e perché sono letteralmente all'orlo del precipizio proprio, non sappiamo più dove sbattere la testa perché sono finite, non sono più strade ma sono mulattiere che non sono più nemmeno transitabili per i muli, quindi niente, spero che qualcuno intervenga perché non ce la facciamo più.